Allora io prendo una spicola con patate al forno E una zuppa di pesce E una frittura di calamari Prenda le vongole Ma io voglio una spicola Prenda le vongole, sono afrodisiache Le vongole afrodisiache? Ma casomai il pesce azzurro, il merluzzo, il salmone è afrodisiaco Vuole sentire una donna godere, ma godere veramente? Eh certo E allora prenda le vongole Ha giudicato, un piatto di spaghetti alle vongole per me e pure per la mia compagna Ma io volevo la zuppa di pesce No amore, stasera spaghetti alle vongole Camerere il conto Che cosa spaghetti alle vongole, 50 euro? A porzione Ma soltanto perché sono afrodisiache? No, perché sono finite Non ha letto la notizia? Ma quale notizia? Guardi, ormai sono introvabili in tutti gli allevamenti Sono state decimate dal granchio blu E infatti il prezzo del mollusco schizza al 60% Ma quindi non so afrodisiache? No, sono vongole sopravvissute Ma lei mi ha detto prenda le vongole, sentirà una donna godere Ah quella c'è, la titolare del ristorante Eccola là Vedete come gode? Altri 100 euro per due piatti di pasta Sììììììì!